C'è fermento nel comune di Agropoli per il prossimo consiglio comunale monotematico che tratterà esclusivamente della questione PUC la cui mancata attuazione dà sempre fonte di discussioni vista la necessità di questo strumento di gestione del territorio. A richiedere la convocazione del consiglio monotematico è stato il consigliere di minoranza Agostino Abate che in precedenza aveva presentato tre interrogazioni per il prossimo consiglio comunale tutte attinenti all'argomento PUC. Abate rinunciando alle tre interrogazioni e grazie al parere favorevole dell'amministrazione è riuscito a far accogliere la proposta di convocazione di questo consiglio molto importante per la comunità agropolese che finalmente otterrà risposte sulla vicenda ma alla convocazione del presidente del consiglio comunale Massimo Laporta della conferenza dei capigruppo consigliari per discutere sulla fattibilità del consiglio monotematico arriva alla dura risposta di Agostino Abate che con un comunicato disserta totalmente la conferenza. Come a lei già noto nella fase di discussione della delibera consigliare che sentenziò la fine del question time ovvero la fine di ogni confronto democratico dichiarai la mia totale indisponibilità ad ogni forma di colloquio confronto con il sindaco e con tutti coloro che avevano proposto e votato con metodo fascista quella eliminazione. Una reazione chiara e decisa del consigliere d'opposizione che fa capire che sono ancora presenti scorie post abolizione del question time e che i rapporti fra le due parti del comune di Agropoli sono tutt'altro che pacifici.